Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni di Navita. Le notizie provenienti dalla Spagna ci raccontano che Felipe avrà un incontro poco piacevole con la suocera. Ascoltate con attenzione fino alla fine, e non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Celia, confidandosi con la sua amica Trini, le dirà di non essere interessata a nessun altro uomo. La donna vuole infatti prendere del tempo per sé stessa, dopo il fallimento del suo matrimonio. La donna deciderà quindi di partire da sola per l'Inghilterra, per andare a trovare suo figlio Tano. Felipe non sarà affatto felice di questa decisione, l'uomo infatti sembra essere ancora innamorato di Celia. Huertas intanto, nonostante sia stata allontanata dall'avvocato, chiederà all'uomo di aiutare un suo amico finito nei guai. Felipe riuscirà a malapena a tenere a bada i bollenti spiriti della donna. L'uomo infatti è intenzionato di conquistare Celia, si dimostrerà per questo motivo molto freddo con Huertas, ma ecco il colpo di scena, all'improvviso Consuelo, la madre di Celia, farà la sua apparizione ad Acasias, buttando letteralmente fuori di casa Felipe. È stata infatti Celia a chiedere alla madre di intervenire, ma il vero colpo di scena lo vedremo quando Celia tornerà dall'Inghilterra, portando con sé un'amarissima sorpresa per Felipe. Se una vita ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi la campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni. Grazie. 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 Grazie.